Giovanni Minoli è un giornalista, autore televisivo, conduttore televisivo e radiofonico, dirigente pubblico e saggista italiano. Queste sono state le sue commuoventi parole. Giovanni Minoli era anticonformista a una grandissima, sia come persona che come attrice. Sandra era una donna unica, vera, sincera e totalmente anticonformista. Diceva quello che pensava e faceva quello che voleva. E quando ha scoperto il suo ruolo a Mixer l'ha interpretato nel modo migliore. Così Giovanni Minoli ricorda Sandra Milo, con la quale aveva collaborato all'epoca di Mixer su Rai 2, all'interno del programma d'approfondimento. L'attrice aveva condotto una rubrica di costume. Già prima, con piccoli fans, fece un programma che oggi copiano tutti, prosegue Minoli ricordando il programma TV, che la Milo condusse dal 1984 al 1989, e che prevedeva l'esibizione canora di alcuni bambini che interpretavano canzoni dei loro beniamini. Disvampito non aveva niente. Aveva inventato un personaggio. Ma era una donna di un'intelligenza, di una concretezza e di una visione molto attenta. Queste sono state le sue commoventi parole per Sandra Milo.